De Cuba o De Santo Domingo, per me c'è dubbio questa qua è un'altra bomba. Non è manco tutto sto granché, ve? Non fatti. Adesso ne facciamo una con i testimoni. Eccoli! Ah, ah, so io o sposo, eh? Eccolo! Qui c'è la migliore di tutta l'Europa, eh? È l'unica possibilità che abbiamo! Non è l'unica possibilità e tu lo sai benissimo. C'è una vestita. Riccardo, lei è la mia donna. Tu mi hai lasciato per andare a vivere con questo. Sono trasgressivi. Avrei messo su il pornazzo, eh? E allora non guardate, dai. Ma che volendo, che ciollo, che ha pallonetto? Le va ste mani? Ci manca una cosa, una cosa piccola, che poi piano piano cresce e diventa grande. Est, vogliamo fare il trapianto del pene. Un bambino! Ci manca un bambino! Ma se mi fai a cussì che hai mano? Sto vicino che cresce a cussì o che cresce a cussì? Che è cuccato? Non ho letto vicino. Sono disperati. Cosa posso fare per lei? Vorrei un mutuo. Di cosa ci ho qua? Lavoro qui. Non è un lavoro continuativo, signora. Ma ne ho letto l'arpina! Adesso glielo dareste il mutuo, eh? Ci volate. Sono all'ultima spiaggia. Andate via, vogliamo rinno! Signora! C'è un mio amico sul cornicione. Come c'è finita? È a fini dei ragnatelli! Eroi della sfiga. Ehi, secondo me, ha dei parenti in Alto Adige. Bologna. C'ho una zia a Caserta Nord. Ma chi sta scemo? No, è milanese. Che non hanno più niente. Cosa sono da Lazio? Se buttavo! Ma proprio niente da perdere. All'ultima spiaggia. Lui chi mi ha scelto un cornicione più basso? Sì, ma mi ammazza a far più piano.